Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di RockPolitik. In questo nuovo episodio vorrei parlarvi di un nuovo argomento, ossia la partecipazione politica e della rappresentanza politica delle donne in Italia. Secondo gli ultimi dati in Italia abbiamo ogni 7 sindaci un sindaco e una donna. Ecco è un dato allarmante rispetto agli standard europei e dei paesi occidentali, ma è un trend in crescita, soprattutto nelle ultime tornate elettorali abbiamo avuto molti sindaci donne rispetto ai decenni passati. Ecco noi abbiamo questo blocco culturale già da molto tempo ormai che non riusciamo a superare e lo notiamo soprattutto anche a livello locale come dicevo prima. E soprattutto in una città come Rivarolo che si autodefinisce una città diciamo tra virgolette radical chic, politicamente corretta, ma non abbiamo mai avuto un sindaco donna. Ecco, secondo me le cose potranno e dovranno cambiare soprattutto nelle prossime elezioni, anche perché a Rivarolo stiamo notando che le figure principali che si stanno muovendo nella politica rivarolese sono due figure donne, una sinistra e una destra. Quindi qualcosa si sta muovendo e stiamo andando nella direzione giusta, anche perché soprattutto facciamo parte dell'Unione Europea e l'Unione Europea ha nelle due cariche istituzionali tra le più importanti, ossia la presidenza della Commissione Europea, che abbiamo la von der Leyen, e la cancelleria tedesca, che abbiamo la Merkel. Quindi abbiamo un'Europa, tra virgolette, governata da donne e in Italia non siamo riusciti ancora a sfondare questo muro, diciamo tra virgolette, ideologico. Qualcosa sta cambiando, stiamo notando con l'ascesa di Giorgio Meloni, con le parole di Enrico Letta che si è subito impuntato su nuove quote rosa, sul fatto di far partecipare molto di più la rappresentanza politica femminile sia all'interno del Partito Democratico che a livello nazionale. Ecco, bisogna sicuramente attivarci il prima possibile. Sicuramente le soluzioni da trovare non devono essere, come ha detto anche il Presidente Draghi, trovare delle quote, trovare dei numeri fissi per rendere obbligatoria la cosa. Deve essere una cosa culturale, dobbiamo accettare la figura della donna nella nostra politica, nelle nostre cariche istituzionali. Per carità, ci vuole tempo, ok, però dobbiamo farlo il prima possibile, assolutamente, perché se no rimarremo indietro anche su questo punto e soprattutto a livello locale bisogna spingere per far candidare a partecipare donne e le donne non devono avere paura di essere giudicate da uomini, ma anche e soprattutto da altre donne, perché spesso, come capita, poi la concorrenza tra donne che vogliono ricoprire la stessa carica diventa molto più feroce, è molto più cattiva anche tra le regolette. Quindi deve essere una cosa che dobbiamo superare tutti il prima possibile e il mio desiderio, la mia speranza è che nelle prossime elezioni, anche solo a Rivarolo, ci siano delle figure femminili che abbiano il coraggio e una carica di ricoprire il ruolo di sindaco che si candideranno, speriamo, a questo nuovo, a questo ruolo che secondo me sta diventando sempre meno popolare come lavoro, ma che è uno dei lavori più belli che esistono. Grazie a tutti per la partecipazione, per ascoltarmi ogni settimana e ci vediamo alla prossima puntata di Rockpolity. Grazie.